Un salve a tutti voi, ben ritrovati nuovamente qui in questo mio consueto appuntamento. Come potete notare siamo in rigorosa diretta, oggi trasmissione di lottologia, grande trasmissione di lotto, in quanto oggi ci occuperemo di tutti quei calcoli matematici, di tutti quei calcoli di statistica e di probabilità matematica. Voi ormai sapete, io da tantissimi anni vi ho regalato ambi, terni, quaterne e quant'altro, tanto che i tabulati parlano da soli. Oggi inizia questo nuovo ciclo, questo ciclo di trasmissione, queste rubriche di lottologia per cercare di coinvolgere più persone possibili perché so che voi amate il lotto. Voi mi chiamate in privato e mi dite sempre Cristian, quando è che affronti una trasmissione di lotto come facevi in passato. Perfetto, queste trasmissioni sono dedicate proprio a tutti gli amanti del gioco del lotto, che sono tantissimi. Voi per tanti motivi, vuoi perché c'è la crisi, vuoi perché la gente ama giocare, vuoi perché è rimasto l'unico obiettivo oggi, cercare di giocare un euro per vincere qualcosa. Perfetto, oggi sono emozionatissimo perché alla vostra attenzione intanto inizio parlandovi del 90. Un 90 da urlo, un 90 spettacolare, in quanto questo 90 in qualche modo, sul tabellone analitico è posizionato con un ambo isolato. Tutti voi che conoscono il gioco dell'otto sanno che quando un ambo isolato è un ambo che ha una alta probabilità di sortita, vuol dire che nell'arco di uno, due, massimo tre colpi, perché anche a tre, quattro colpi siamo i primissimi colpi di gioco, porta l'ambo con la sua sortita. Devo dire che abbiamo un 90 particolare, nelle ultime stazioni questo 90 si è presentato in maniera un po' sparsa. Io ve l'avevo anche precedentemente anticipato che questo 90 avrebbe fatto più comparse sul quadri stazionale, addirittura nella stessa sera l'abbiamo trovato in due ruote consecutive. Quindi devo dire che questo 90 è un numero particolare molto ballerino ultimamente, ma quando lo mettiamo in gioco, lo mettiamo in gioco perché lo dobbiamo affondare, colpire ed affondare. Come? Intanto io ve lo propongo con due ambi secchi, vuol dire che ci sono due abbinamenti con questo 90, due abbinamenti eccezionali, su una ruota pazzesca che non vi posso anticipare nulla. Quindi se volete incominciare a prenotarvi o a chiedere informazioni su come prendere questo 90, volete sapere come vincere questo 90 a perfetto, chiamate i numeri che vedete in sua impressione e sicuramente i miei assistenti vi daranno i giusti chiedimenti. Quindi volete sapere come vincere con noi anche questa settimana perché con noi si vince ogni settimana? Perfetto, i numeri che vedete in sua impressione li dovete usare fin da questo momento e dovete chiedere come posso vincere con il 90. Perfetto, questo 90 devo dire che intanto ci sono due numeri spia proprio inerenti all'ultima estrazione che parlano di questo 90, addirittura c'è una convergenza nuova, una anche sulla triangolare che in qualche modo ci va un pochettino a confermare le regole del gioco. Devo dire che questo tabellone analitico è un pochettino confusionale ultimamente proprio a causa di questi ritardatari. Ahimè signori, voi state continuando a giocare questo 21, che dopo ne parliamo anche di questo 21, ma questo 21 essendo un ritardatario è un numero che esce fuori dai calcoli matematici. Io dico sempre meglio un uovo oggi che una gallina domani ed è vero, accontentiamoci delle previsioni che vincono nell'immediato perché voi volete vincere subito, quindi se volete vincere subito non dovete andare a buttare i soldi sul ritardatario, dobbiamo in qualche modo andare a fare un gioco ristretto che costi poco e che porti dei frutti subito. Io dico sempre quando vinciamo anche un amba a tutte le ruote con un euro sono 25 euro, avete pagato la telefonata, avete pagato la giocata, vi sono rimasti dei soldi per giocare nuovamente. Meglio vincere spesso e di continuo che aspettare un ritardatario una volta ogni due anni perché purtroppo la vita di un ritardatario è quello perché è un gioco un pochettino ambiguo, un pochettino complicato da seguire. Io in questo momento ho questo 90 che sta bollendo in pentola, un 90 che sicuramente vi paga bene, un 90 che paga nell'immediato, quindi se anche tu vuoi vincere con questo 90 e se anche tu hai già vinto con me e vuoi continuare a vincere con me, chiama i numeri che vengono in pressione, in questo momento sto aprendo 100 linee e quindi ci vediamo fra pochissimo. Grazie. 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 Benissimi, siamo rientrati, ho visto i tabulati, ragazzi, ma quanti siete che state chiamando? Quanti siete che state chiedendo questo 90? È incredibile! Nel momento in cui vi parlo del 90, voi subito lì al telefono per prenderlo, perché è un numero che vi piace. Non nascondiamoci dietro un dito. A voi piace il 90, a me piace pure tanto, però purtroppo è un numero che lo metto in gioco solo quando ho un'altra probabilità di sortita. Questo 90, signori miei, sicuramente farà parlare di sé. Personalmente con la mia previsione io posso dirvi che c'è una vincita immediata. Veniamo da un terno a tutte le ruote, che a molti fa schifo, però di un euro sono 450 euro. E le mie casalinghe, le mie nonne, i miei disoccupati mi ringraziano e mi mandano benedizioni. Bene, io vi do questi due ambi con il 90, due ambi che sicuramente vi portano la sortita nell'immediato, un 90 che sicuramente paga. Quindi chiamate i numeri che vedete in sua impressione e se volete fare una cosa ancora più bella, quando chiamate, prendete la previsione e fatevi fare il terno personale sulla vostra data di nascita. Perché i terni personali hanno fatto terni secchi a ruota fissa. Perché il terno personale è qualcosa che appartiene a voi, alla vostra data. Quindi chiamate, informatevi, chiamate i numeri in sovrimpressione per vincere ancora a colpo. Ancora un minuto di pausa e parleremo di una nuova previsione. Chi chiamerà oggi è a posto per tutta la settimana. Fra poche ore c'è l'estazione dell'otto, fra poche ore si vince e continueremo a vincere. Se anche tu vuoi gridare, ho vinto, perfetto, chiami i numeri che vedi. In sovrimpressione, a fa poco! Grazie a tutti! 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 in contemporanea, siamo anche in diretta sul 19 Teleradio Sciacca, siamo in diretta su tanti canali, sui nostri siti internet, anzi, guardate bene le nostre pagine Facebook, perché sulle pagine Facebook molto spesso c'è un ultimo minuto. Attenzione, questo 21 vedo che è stato molto, molto gettonato, questo 21 è stato richiesto veramente già da quasi 300 persone, ne parlo da tre minuti, però mi fanno segno le mie centraliniste che voi state chiedendo il 21 sulla ruota di Bari, allora signori, questo 21 che vi diamo noi lo potete anche giocare sulla ruota di Bari, nessuno ve lo vieta, ma per noi la ruota principale, la ruota dove va comunque messo quel centesimo in più è un'altra ed è quella che vi hanno dettato le mie centraliniste, quindi va bene che ve lo giocate a Bari questo bellissimo terno, ma io lo vinco il terno su un'altra ruota, quindi signori miei, la ruota che vi dico io è quella che ha più valore aggiunto, la ruota di Bari è dove lui ritarda, ma io lo vado a vincere nell'immediato, il ritardatario invece lo vinciamo quando vorrà lo Stato, perché il ritardatario vi ricordo che è un gioco in mano alla lottomatica, mentre sull'altra ruota è un calcolo di probabilità matematica mio, poi sapete, esistono metodi di lotto a mai finire, c'è il calcolo di probabilità, ci sono i numeri consecutivi, le figure opposte, le figure diametrali, quindi diciamo ci sono moltissimi metodi di lotto, in questo momento questo 21 è sulla bocca di tutti, perché tutti sono rovinati col 21 a Bari, io ve lo do su un'altra bellissima ruota, vi dico che è posizionato in un terno assoluto, su una ruota veramente doc e questo 21 ha soltanto una ruota, più la nazionale che è la ruota di appoggio, ma ha due abbinamenti, questo 21 che usciranno secchi, terno secco col 21, per voi, una telefonata in questo momento avrete il mio 90, il mio 21 che non è sulla ruota di Bari e la previsione segreta, quindi una sola telefonata, avete tutte le previsioni e per tutta la settimana siete a posto, chiamate ancora Centolinea. Per voi, a suo poco! Grazie! Bene, entrati nuovamente in diretta, questa è una diretta bellissima, perché comunque ci tenevo proprio a farla oggi questa diretta, in quanto, voi sapete, noi viviamo di previsioni, di calcoli matematici, il calcolo matematico si fa sempre in base all'ultima estazione dell'otto, quindi non potevo fare questa diretta la prossima settimana, perché il calcolo l'avrei perso, avrei perso la previsione, avrei fatto perdere a voi la previsione, siccome mi si è presentato questa condizione di gioco abbastanza forte, questo 21 che lo vedo comunque veramente incredibile, io vi dico, questo 21 lo vinciamo, lo vinciamo bene, lo vinciamo su un'altra ruota che non è quella di Bari e questo 21 ci porterà sicuramente la vincita a colpo, quindi dovevo per forza fare questa diretta, in questo momento, chi chiama in questo momento durante questa diretta avrà il mio 90, avrà il mio 21 e la previsione segreta, tre previsioni con una sola telefonata, stop, non ci sarà un ultimo minuto, non ci sarà una replica, quello che vi voglio dire io è che questa previsione paga bene, paga subito, paga a colpo, quindi mi raccomando che a tempo non perdi tempo e chiami adesso, i numeri che vedete in sovraimpressione li dovete chiamare adesso, perché domani è troppo tardi, domani avete perso la partita, domani vi mangierete le mani, perché io porterò alla prossima diretta i fax di vincite e saranno tanti i fax che la gente manderà, perché la gente gioca i numeri di Cristiane, perché la gente ha vinto con i numeri di Cristiane, perché la gente ha sempre guadagnato con me, perché voi fate una sola chiamata, una sola chiamata e vi danno le tre previsioni in gioco oggi, beati coloro che chiameranno durante questa trasmissione, perché in questo momento le mie consulenti velocemente in soli 30 secondi vi detteranno le tre previsioni, vi prego quando chiamate cercate di prepararvi carta e penna alla mano, cercate di essere veloci, rapidi e svelti, non perdete questa occasione, chi ha tempo non perdi tempo, è come dice un detto che comunque è verissimo, carpe diem, cogli l'attimo, ed è questo l'attimo, adesso si vince, oggi, oggi tu potrai vincere, solo chiamando i numeri che vedi in sua impressione, perché a quei numeri trovate un 90 magico, un 21 strepitoso e una previsione segreta, la mia previsione segreta per molti non sarà una novità, però la novità sarà la ruota, quindi attenzione, vi rimando altre 200 linee per voi, solo 200 persone in questo momento possono accedere a questo, quindi inizia il countdown a so poco. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!